C'è questo orientamento condiviso dal governo, si tratta di trovare uno strumento legislativo che entra in vigore già prima dell'8 maggio, lo ha detto il Presidente della Regione Occhiuto a margine di una conferenza stampa nella sede della Giunta regionale con riferimento alla proroga dalle Decreto Calabria alla legislazione speciale per la sanità calabrese che scade l'8 maggio. Sì, c'è questo orientamento condiviso dal governo, si tratta di trovare uno strumento legislativo che entra in vigore già prima del 7-8 maggio, il governo ci sta lavorando, ci sono due ipotesi di proroga, una fino al 31 dicembre, un'altra per un anno. La proroga è importante perché stiamo procedendo nella direzione di approvare i consuntivi delle aziende sanitarie e ospedaliere, l'approvazione dei consuntivi è importante per poter dare normalità alla gestione della sanità e quindi i commissari e le aziende devono essere governate nella pienezza delle funzioni fino all'approvazione del bilancio. E' nata ufficialmente l'azienda sanitaria unica catanzerese Dulbecco, in merito sentiamo il presidente della regione e il commissario alla sanità calabrese Occhiuto. E' una buona cosa, se ne parlava da 20 anni ma se ne parlava soltanto, in un anno e mezzo l'abbiamo fatto, anche qui grazie ai rapporti positivi che si sono consolidati tra istituzioni diverse, tra la regione e l'Università di Catanzaro. Quindi è una bella notizia, sono particolarmente orgoglioso del fatto che vicende delle quali si è appunto soltanto parlato per 20 anni abbiamo trovato una soluzione in pochissimi mesi. Questo decreto annunciato al governo come risolutivo del problema dell'immigrazione illegale come soluzione alle stragi in mare, alle partenze irregolari, al lavoro nero e allo sfruttamento legato alla criminalità organizzata, manca decisamente tutti gli obiettivi, ponendosi come annesimo provvedimento slogan che va a limitare in maniera inaccettabile i diritti e gli spazi di protezione degli stranieri. Lo afferma Elisa Scutella, capo gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Politica dell'Unione Europea. Da qualche giorno il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha pubblicato l'elenco dei documenti necessari per partecipare al bando sulla riqualificazione dei frantoi. È un bando con fondi PNRR, oltre 16 milioni di euro, destinati alla nostra regione che fra le regioni guida del settore olivicolo nel Paese. Tutto questo sforzo sarà finalizzato al miglioramento della qualità della produzione di olio calabrese che si sta affermando a livello nazionale perché viene finalmente conosciuto e viene conosciuto in termini di qualità della produzione e tutto questo sforzo noi lo condurremo insieme ai nostri produttori, ai nostri trasformatori per fare in modo che questo settore possa finalmente crescere per come noi crediamo sia possibile. È stata riaperta al traffico, dopo una chiusura di circa 15 anni, la strada provinciale numero 164 Civita Cassano. Un impegno assunto dalla Presidente della provincia Rosaria Succurro nell'estate 2022 è mantenuto in tempi celeri. È una giornata importante perché restituiamo due comunità, tra Cassano quanto a Civita, una grande opportunità quella finalmente di poter essere legati da una provincia nazionale presa da tempo. I lavori per un importo complessivo di 150.000 euro hanno riguardato il montaggio delle barriere guardrail, la sistemazione dei tombini con montaggio delle griglie, la canalizzazione delle acque superficiali, la realizzazione del manto stradale con bitumazione e un sistema di monitoraggio per verificare eventuali movimenti del territorio circostante. La strada da oggi al servizio alle comunità e dei turisti che potranno nuovamente godere di un panorama splendido, un passo in più a sostegno del turismo dei borghi. Nel caso di ringraziare il Presidente della provincia, il Presidente Succurro che dopo 15 anni dà questa comunità, la comunità di Cassano insieme a quella di Civita, una strada, la strada provinciale Cassano-Civita che era chiusa ormai da tanto tempo. Una strada da percorrere in sicurezza, con prudenza comunque, che costituirà uno sfogo per le nostre comunità che erano assolutamente tappate. Per cui io credo che in questo momento sia un momento importante dopo tanti anni, merito al Presidente Succurro, merito alla provincia di Cosenza, c'è tanto altro da fare, ma lo faremo insieme. La demenza non fa paura e provoca meno dolore se condivisa. Ne è pienamente convinta Elena Sodano, Presidente dell'Associazione Raggi Onlus, che dal 2006 si occupa sul territorio calabrese di malattie neurodegenerative e ha dato vita a casa paese nel piccolo borgo di Cicala. È in continua evoluzione il percorso di accoglienza e solidarietà avviato all'Associazione Cicatanzaro e l'Associazione Culturale Teatro Hercules. Nell'ambito del progetto Tutti Insieme Appassionatamente si accinge a dar vita a un'ulteriore struttura per persone affette ad Alzheimer e demenze neurodegenerative. Si tratta di Casa Lady Di, un co-housing assistito destinato a sei donne affette da decadimento cognitivo. Gli obiettivi è quello di dare alle persone con demenza, che devono essere soltanto donne, nella prima fase della malattia, la possibilità di vivere liberamente il territorio, andando nelle pizzerie, andando al cinema, andando al teatro, andando nelle scuole di yoga, andando negli istituti di bellezza. Questo per noi è un obiettivo veramente importante perché è l'unico modo possibile per fare del territorio un dispositivo terapeutico che dia a queste persone la possibilità di vivere la malattia nella maniera più umana e dignitosa possibile, mettendo finalmente al centro la persona che deve vivere oltre la malattia. Il progetto è finanziato da Agenda Urbana e c'è anche un cronoprogramma da seguire? Assolutamente sì ed è un cronoprogramma molto rigido. Abbiamo nei giorni scorsi fatta la presentazione appunto del progetto. Adesso in questo momento proprio Casa Lady Di sta per essere arredata con dei mobili molto particolari proprio che hanno la dimensione dell'accoglienza per le persone con demenza e naturalmente proprio per come prevede il progetto nel mese di maggio verrà aperta. Una cosa molto importante è che le persone che abiteranno a Casa Lady Di avranno la possibilità di vivere senza pagare nulla, quindi è un servizio totalmente gratuito per le famiglie. Inoltre le donne che alloggeranno si sentiranno protagoniste, questo è uno dei vostri hobby vive e protagonisti, questa è una delle vostre priorità. Questa è una delle nostre priorità perché noi non vogliamo far perdere nel nulla l'identità e la femminilità delle donne con demenza. Ci vogliamo far capire a tutta l'opinione pubblica che avere una demenza non è una vergogna, avere una demenza non è un marchio ma avere una demenza è come avere una qualunque malattia.